Il tallonatore dell'Italica Rugby Junior Sterni Under 18 Matteo Civica è stato convocato nella selezione di categoria del Lazio e domenica scorsa è entrato in campo nel secondo tempo durante la partita amichevole con la selezione pari età dell'Emilia Romagna a Parma. Una esperienza molto formativa per il ragazzo cresciuto negli Young Rieti e oggi punto di forza dell'Italica allenata da Mirko Pelagalli e Marco Diamanti. Matteo gioca rugby da circa 3-4 anni grazie ad alcuni amici e compagni di classe che gli hanno fatto conoscere questo sport.